Tragedia nel pomeriggio a Padova in via del Plebiscito, dove un'auto ha travolto una madre e il suo bambino. L'incidente si è consumato alla rotatoria che interseca le vie Viotti e Baiardi attorno alle ore 15 e 30. La madre stava spingendo il passeggino dove si trovava il figlio di pochi mesi. Al momento di attraversare la trafficata strada si è arrecata presso le strisce pedonali che precedono la rotatoria. Per cause ancora in fase d'accertamento, un'auto che viaggiava verso nord ha preso in pieno i due. Immediati sono scattati i soccorsi. Il più grave, il bambino di pochi mesi, è subito stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso pediatrico. Nell'impatto con l'auto è stato lui ad avere l'appeggio. Sbalzato dalla carrozzina ha sbattuto violentemente il capo a terra. Poco dopo l'arrivo in ospedale il piccolo è stato dichiarato morto. Troppo gravi le sue condizioni. Trasportata in ospedale in stato di shock anche la madre del bambino che ha riportato solo ferite lievi.